Sì, della Giunta Comunale ha sensibili riduzioni tariffari e tari per oltre un milione di euro, a beneficiarne famiglie, imprese e liberi professionisti della città di Chieti. Si tratta di un beneficio reso possibile dai contributi statali per l'emergenza Covid-19 che sotto forma di sgravio andranno a beneficio delle utenze domestiche per il 60% e per il 40% a vantaggio nelle non domestiche. Per le utenze domestiche è prevista una riduzione tariffaria della quota variabile della Tari per Isee e fino a 15.000 euro da applicare ad una sola utenza domestica per nucleo familiare ed adibita ad abitazione principale. Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione tariffaria della quota variabile da determinarsi a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, svolgono attività economica attraverso la propria sede, domicilio fiscale oppure unità operativa, con i seguenti requisiti. Essere regolarmente costituiti e iscritti al registro imprese o all'albo della propria categoria o titolari di partita IVA riferita all'attività di lavoro autonomo e che risultino attivi al momento della presentazione della domanda ai sensi del precedente punto. Rientrare nelle attività rimaste aperte nel periodo emergenza Covid-19, ma con riduzione della propria attività e i propri ricavi in relazione al Covid-19, dandone specifica motivazione non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, non possedere redditi superiori a 10.000 euro nel periodo d'imposta 2019 e di aver subito una riduzione del fatturato medio mensile e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2021 di almeno il 27% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo d'imposta 2019. Io faccio un appello pressante a tutti coloro che possono essere interessati a questo sgravio fiscale perché è una delle tante cose utili che le amministrazioni locali possono fare per i propri concittadini, soprattutto in questo momento, di grave allarme economico. Le domande dovranno pervenire entro il 26 settembre 2022 per l'istruttoria della società Teate e Servizi a mezzo mail all'indirizzo agevolazioneetari2022-teateservizi.it o tramite app smart.pa del comune di Chieti scaricabile sia per dispositivi Android che iOS.